Si chiamano Corrie Moore, la moglie Christie, lui 29 anni, lei 27, hanno lasciato morire di fame il loro bambino e hanno chiesto un nuovo processo. Hanno lasciato che il piccolo Jeremia morisse di fame nello stomaco del bimbo. Sono state trovate tracce della sua copertina e secondo i medici, con disperazione addosso, avrebbe provato a sfamarsi addirittura mangiandosela la coppia di Princeton. La leggenda Lover sarebbe stata arrestata con l'accusa di abbandono di minorenne e omicidio. Al momento della morte il bimbo pesava 5 kg solo. La coppia ha spiegato che non era la loro intenzione far fuori il bimbo e erano convinti che non sarebbe morto di fame. L'avvocato di due ha supportato questa tesi chiedendo un nuovo processo. Il giudice primo però stabilì che non poteva non esserci colpa dei genitori, visto che il bimbo era sotto la loro difesa tutela. Era troppo piccolo perché potesse anche soltanto mangiare in maniera autonoma, soprattutto considerando il precario stato di salute in cui era ridotto. Un secondo magistrato considererà il caso per ottenere una coppia, probabilmente una condanna. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi al prossimo video da Leandro, narratore italiano.